Andiamo incontro adesso alla settimana di Pasqua. Una Pasqua è una settimana strana che non abbiamo visto, nessuno di noi ha mai visto. Una settimana che ci vede impegnati a casa a riflettere sui valori della Pasqua e che ci porterà inevitabilmente a viverla in maniera strana. Io a questo proposito vi voglio fare una raccomandazione. Noi cittadini di Real Monte secondo me abbiamo tenuto un comportamento esemplare nel rispetto delle norme che sono imposte dallo Stato alla Regione e delle ordinanze che io stesso ho emesso. Secondo me abbiamo tenuto un comportamento, dicevo, esemplare perché siamo rimasti a casa, ovviamente con qualche eccezione che è stata ripresa però opportunamente dalle forze dell'ordine. Dobbiamo continuarlo a farlo nella settimana di Pasqua, dobbiamo continuarlo a farlo nel giorno di Pasqua, dobbiamo continuare a tenere questo comportamento nel giorno di Pasquetta. Raccomando a tutti che a nessuno venga in mente di organizzare pranzi di Pasqua o passeggiate o cene o pranzi in campagna il giorno di Pasquetta. È assolutamente vietato. Noi nell'interesse di tutti insieme alle forze dell'ordine staremo là a presidiare il territorio, specialmente nel giorno di Pasqua e di Pasquetta. Perché stare a casa è interesse di chi sta a casa, ma è anche interesse di tutti coloro che con tanti sacrifici non vanno a lavorare, restano a casa e rispettano le norme. Quindi io sono sicuro e fiducioso che tutti voi avete capito in questi giorni l'importanza e i problemi che ci sono stati, i problemi che stiamo combattendo è una guerra, una guerra che sta interessante in questo momento e che ha interessato di più le città del nord, il nord Italia, che è arrivata per fortuna da noi in maniera più blanda, che progredisce da noi in maniera crescente ma costante, senza picchi e senza incrementi esponenziali. Noi però dobbiamo restare vigili, dobbiamo rimanere vigili fino all'ultimo giorno e forse anche di più. Questa è una malattia strana, una guerra invisibile che stiamo combattendo, ma è sotto gli occhi di tutti che è una guerra che ci interessa. I morti che ci sono giornalmente in Italia sono sotto gli occhi di tutti. Nella stessa regione siciliana il bollettino di ieri, il 33 aprile, riportava circa 100 morti, se non sbaglio 101 a fronte di 98 guariti, vedete questa pandemia quando è terribile. Il 50% guarisce e il 50% invece muore purtroppo e quindi è una malattia veramente insidiosa, difficile e terribile. Sono convinto che tutti voi cittadini al monte avete compreso quanto sia grave il fenomeno e resteremo così come abbiamo fatto fino ad oggi a casa per preservare noi stessi, per preservare i nostri cari, ma per preservare soprattutto gli altri cittadini dello stesso comune. Sono fiducioso e so che lo farete. Adesso io per concludere questo video ho pensato in questi giorni, e lo voglio manifestare a tutti voi, ai nostri concittadini che sono fuori dal comune del Real Monte, che in questo momento sono nel nord Italia, che sono impegnati nelle attività lavorative del nord Italia, che sono i nostri medici, che sono i nostri infermieri, che sono i vigili del fuoco che vivono nella città di Milano, di Bergamo, di Torino. A loro va il mio pensiero, il nostro affetto, l'affetto di tutti noi cittadini e sono convinto e spero che prima possibile possano tornare qua da noi, al Real Monte, per essere abbracciati da noi.